carissimi buongiorno siamo di nuovo in diretta su iris tv per voi nati urdea voglia italia siamo a pt uomo firenze 2021 e oggi abbiamo incontrato questo bellissimo pezzo italiano gentleman gentleman grazie molto gentile un attimo il tuo abito il mio abito di oggi è una giacca di tagliatore cravatta londoni tra l'altro uno del colore di tendenza di quest'anno è giallo questa giacca è lino e seta pantaloni in lino mocassini non potevano mancare credo che sono ancora di moda si sempre di moda il mocassino e specialmente qui a pt uomo è un maschio poi parliamo anche dei dettagli cioè la tua barba il tuo occhiale è l'occhiale la barba è sempre curata direi che è un maschio italiano sono abbastanza fortunato perché a me mi resiste bene anche con la mascherina che la mascherina in questo brutto periodo ha in effetti era una delle mie domande sia la mascherina fatto come riesci alla prima cosa mi sono fatto fare che una mascherina su misura che mi tiene la barba meglio possibile questo è un messaggio questo messaggio per tutti i barbuti esatto fate delle mascherine apposta grazie mille per voi è stato irina terdea rimanete con me ciao grazie mille per voi è stato un po' grazie mille per voi è stato un po' grazie mille per voi è stato un hobby per me è un hobby un divertimento grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.